Ragazzoli belli, benvenuti tutti quanti su questo nuovissimo video. Già lo sapete, un bel pollice all'insù, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi nessuna notifica di quando carico i miei video. Vi ricordo che manca davvero poche 300.000 iscritti, quindi iscrivetevi al canale. Oggi ragazzi vi porto Apex Legends, che peraltro è un videogioco che ho riniziato a giocare da qualche giorno e molto probabilmente ritornerò a competere, in quanto lo trovo un gioco molto competitivo e molto interessante. Questo video di Apex che andate a vedere proprio adesso è un video molto molto interessante perché andrà a racchiudere tre partite che noi abbiamo vinto durante il torneo community italiano, dove ognuno aveva la propria squadra. Io appunto avevo la mia squadra e ho invitato due persone per giocare insieme a me. Le partite da giocare erano appunto quattro e noi ne abbiamo vinte tre di fila, quindi ragazzi abbiamo fatto letteralmente il devasto e considerate che quando ho giocato quel giorno avevo ripreso Apex da un giorno. Quindi dopo sei mesi di pausa il torneo è andato comunque davvero davvero molto bene considerando tre vittorie su quattro. Vi ricordo inoltre di seguirmi live su Twitch tutti i giorni, mi trovate in live dalle 16 del pomeriggio fino a l'una di notte e inoltre vi ricordo anche di seguirmi su Instagram perché è il social che utilizzo di più in assoluto per rimanere più a stretto contatto con chi mi segue, ovvero voi. Tutti i link li trovate qui sotto in descrizione. Ma ora non perdiamoci in chiacchiere, godetevi questo fantastico video e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Una buona visione. Ah, dimenticavo, se volete altri video di Apex fatemelo sapere nei commenti. Buona visione. C'era anche la carabina sopra, fo' possibile? Sì, 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 l'ho fingata io prima. Dopo si risparmi le scalezze. Attenzione, c'è un nuovo leader uccidone. L'ova non dimentica l'aventura. Vediamo un po' cosa c'è. Qua sotto, qua sotto, ripeto, ripeto, ripeto. Grazie per il passaggio, ora vado. Ah, voglio prendere la zippa. Zipp, zipp, zipp. Vincola blu. Indietro, 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 indietro. Sto controllando l'aria. Piccatele, 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 ora che sono in buro. Mi tiro una battery. Sì, sono passati, sono passati. Andiamo da questa parte. Mi spaventa se abbiamo gente dietro. Allora, qui sotto fightano... Sì, ma io ci prendiamo destra. Siamo a sinistra, poi è aggressato il mondo. Allora, pesa anche una macchina, mi sa. Qualcosa di interessante. Sì, vado. Due team, due team. Eeeh... Occhio che, afferenziamo, potrebbero... Nel codo c'è un team. Ok. Non mi c'è la mano prima. Scanna pure Martina. Arrivo. Sto controllando i team. Sì, uno l'ho spattato. Entra, 120, tra caccato. Gip, dietro. Caccato, 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 caccato. Andiamo, 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 andiamo. E mi hanno nate. Mi stanno sparando. Nascato. Nascato. Sparano da nord. Sto controllando i tintorni. Un minuto. L'anello è vicino. Non lo capo. Ok, rosso. Sto ricarico. Sto arrestando, stanno arrestando. L'altro la dormite. Gli ho rotto il drone, mi sa. Quando c'hai lo scan? E' tra sette secondi. Sto sparando. Sto sparando. Obiettivo abbattuto. L'accato uno. L'accato un altro. L'accati tutti. Tutti, tutti forti. Vanti a noi. Vangalo. Sto sette. Andiamo da questa parte. Mi chiamo a cercare un block rubber. Vado io, vado io, vado io, vado io. Vado io, vado io, vado io. Lasciamo per l'arc. Un'arriva dal lato. Sto tirando un medirizzo. Mi sono presa qualche sec... Granata, via di lì. Qua sopra, qua sopra, 67. Me lo scanno. L'ho scannato. Traccavissimo, traccavissimo, i wasshot. L'accato a print, l'accato a print. Ripeto. Non è red. A terra uno. A terra uno. Anche lì, raga. Lì, c'è uno a terra, raga. È blu. Faccio un attimo uno scampio a vedere se ci sono dei ratti. A terra uno. Vai, fai una live. Sto ricaricando. Allora, in casa di ragenza, guardate, ci mettiamo qua sotto al piano terra. Ok, è il posto più facile. Ok, ok, ho visto dove si entra. Ok, che mozza. C'è una brezza che arriva. Speriamo di trovare del buon bottino qui in giro. Arriba subito. Arriba subito il posto. Ti vado, traccavia rossa. Ricarico. Ma arriva su di nuovo il tp, ah? Nemico, da quella parte. Sì, sotto sono. Ma... Colpo passa pure. E' quelli lì? Qua, qua, qua. Vado, vado, vado. Fatta male. E' rosso, rosso. Vedi qua, vedi qua. Cambiamo un palazzo, cambiamo un palazzo. E' red. E' red, è red. Ragazzi, abbiamo gente sotto. Stanno. Stanno. Sto accaduto. Un anello non è montato. Un nemico. Ricarico. Ricarico. Sto ricaricando. Dai, ecco. E stanno sparando. Chi è? Non so. Quadra eliminata. Sta salendo dall'altro lato, dietro di voi. Ricarico gli studi. Non è più steveni. Stanno eliminata qua da me? Forse, non lo so. Atterrae una, atterrae una. Atterrae una. Scanno. Sto. Sto controllando in turno. Nemico ucciso. GG, raga. Bravi, bravi, bravi. GG, GG, raga. Bad game. Prendo questa io. Sto direttamente al dico. Bravissimo. Sto aprendo il fuoco su un nemico. GG, ora rotto. Alla ora. Quanto se non avrei hit? Si stanno sparando. Uh, l'ho quasi sticcato. Il tato, 87 ora. Ah, sono qui qui. Sono qua, dietro a fa. Nel nemico, proprio. Sto spando. Bangalore, bangalore. Sto ricaricando gli scudi. Mi prendo qualche secondo. Mi stanno partire nel posto. Ah, ho un altro team, un altro team, un altro team. Sto, stai con questi. Sti, stai con questi. Sto sotto attacco. Mi ne vici. Mi stanno sparando. Sto accando la bhangalore. Sto avendo una banca. Sto, sti, sti, sti. Sto avendo un giro. Sti, sti. Sti, sti. Sti, sti, sti. Sto, sti. Sti, sti, sti. Mi prendo qualche secondo. si vai eeeh andiamo a prenderci il tetto crackato anche alla destra vieni da dire venite con me crackato crackato quello che sto sto otterrando knock c'era uno fuori nooo C'è un altro team eh? Avete un phoenix Arrivano, arrivano Venite su, venite su Area sulla light lane Bravi Stanno Aleva rossa Col gilby Gilby federa One shot da Bangalore Bangalore qua dietro Qua sotto Qua sotto 46 rosso È pet Lasciamo pet Dobbiamo ruotare Scanner tra poco Ho fatto molto male 10 secondi L'anello è abbastanza Devo curarmi Un attimo faccio una batter Ci sono Ma è dentro Molto Molto Intento Il Il Devo E' rosso, è rosso, mi cura Digi, raga, let's go Bravissimi, bravissimi, bravissimi Eh, io sono cortissimo Andiamo tutta la mappa libera Non c'è assolutamente nessuno Ma io ho visto un team dei possibili, ma questo In fondo Dove sto andando io? Eh, io mi sembra che ho visto No, no, erano le mie dicoi Ah, ok Mi spara Sto controllando i dintorni Sto controllando un... Sto controllando il mercato E' red, 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 red Sto controllando, è sceso, è buttato giù Lo ha battuto un nemico Dietro, 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 dietro E' un'accada, credo No Ora sì Ora sì 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 è bianco quello che vuoi l'hai fatto male sono andato lì dentro andiamo da questa parte morto i nemici sono andati incontro al loro destino oh gente da me mi stanno sparando rosso morto mi sto riparando tu lo prendo io lascio il prowler allora se vi serve è praticamente tutto carico uno qua uno qua sai che c'è il kraber è blu 30 blu è morto siamo dietro siamo sotto la mano mi stanno sparando si è a posto mox ok si stanno arrivando guarda a terra è quelli qua davanti lì 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 siamo dentro da un giro due a terra manca al lo sto controllando lo sto controllando stiamo in giro un altro il fraio in nonno sta salendo ala l'attenzione il bravo il bianco è passato il bianco ce n'è uno proprio qui ecco l'astro le squadre stanno attaccando stiamo andando un altra squadra ci attacca amici Scanno GG raga 3-3 Io non ho fatto niente questa video GGG GGG